Si naviga a vista in comune all'Aquila per i rinnovi dei 56 precari che da fine settembre attendono i rinnovi dei contratti scaduti. Eppure sembrava tutto pronto per un provvedimento atteso e al tempo stesso controverso, che ha scatenato polemiche e battaglie, politiche e di principio. Dopo il parere di inammissibilità espressa dalla Corte dei Conti all'ennesimo parere richiesto dall'amministrazione, sembrava comunque che il bandolo della matassa fosse stato individuato e che la proroga, fino a fine anno, potesse arrivare già nel weekend appena trascorso. L'ok a rinnovi era arrivato anche dal dirigente del settore avvocatura Domenico De Nardis, che si era detto disponibile a firmare al posto della dirigente Coluzzi che, come si ricorderà, aveva detto chiaramente di non volerne sapere. I contratti però dovevano essere corredati da un verbale di conciliazione che, di fatto, salvaguardava il comune da qualsiasi ipotesi di vertenza dei lavoratori, che avrebbero rinunciato ad adire le vie legali nei confronti dell'ente per l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Una clausa, paremmo, apparentemente vessatoria per i lavoratori, ma accettata da tutti, dipendenti, sindacati e giunta, dove, non tutti, vice sindaco Trifoggi in primis, erano favorevoli ai nuovi. E invece arriva il colpo di scena che non ti aspetti. La dirigente che sostituisce il segretario generale, sospeso per l'inchiesta sull'exompi, ha manifestato perplessità e contrarietà al provvedimento di proroga, che l'esecutivo ormai stava per approntare e la questione è stata rimandata. A questo punto non si sa fino a quando. Il tutto con gli idoni del concorsone che invocano di essere presi in considerazione e chiamati a lavorare, i precari che reclamano il diritto al lavoro e la politica che assiste in potente ad una situazione che ormai si terrascina da oltre un mese.